Sì, intanto sono stata favorevolmente colpita dal fatto che ci fossero 20, che ci siano 20 candidati perché ricordiamoci che le ultime elezioni da noi in certe città hanno fatto fatica a fare una lista e questa lista diciamo aveva, l'obiettivo principale era quello di raggiungere il quorum oppure si costruivano una seconda lista fittizia per avere la libertà di non raggiungere il quorum perché è una realtà anche in Veneto quella della disaffezione all'impegno. Io sono consigliera comunale e al di là della mia situazione in cui tutti i consiglieri comunali di Schio diciamo doniamo per l'attività del circolo cittadino il nostro piccolissimo compenso ma ecco il compenso è veramente piccolissimo quindi sicuramente appunto quando ci sono stati vari tagli dei costi della politica si è tagliato soprattutto a questi livelli che quindi è attualmente volontariato puro volontariato puro uno deve essere ben motivato perché probabilmente è anche più facile dire beh faccio volontariato nell'associazione in cui ho soddisfazione, tutti mi applaudono, mi dicono che sono bravo fare volontariato nell'impegno politico cittadino insomma non è neanche così allettante agli occhi proprio anche magari dei ragazzi più giovani infatti il mio lavoro in questi anni è stato soprattutto quello di cercare di costruire delle scuole di politica per insegnare ai ragazzi giovani la bellezza di portare avanti delle proposte ma non è facile perché è sempre una cosa in più però secondo me è proprio su questo che dobbiamo lavorare perché è vero che ecco forse siamo tutti abbastanza grandi per ricordare Gian Antonio Stella e il suo libro La Casta che aveva proprio messo a nudo una situazione effettivamente che gridava vendetta di utilizzo di fondi pubblici da parte dei partiti in maniera impropria e quindi diciamo l'opinione pubblica è andata assolutamente contro quello che era il finanziamento pubblico ai partiti però secondo me con la legge che lo ha impedito si è buttato via il bambino con l'acqua sporca perché è il sale della democrazia è quello lì che alla fine qualcuno possa impegnarsi nella politica anche nell'amministrazione della propria città e non debba necessariamente essere supportato magari da imprenditori che vogliono investire su di lui eccetera siccome la politica costa perché per fare attività comunque devi non so devi prendere una sala per organizzare qualcosa devi stampare un volantino ma anche semplicemente devi gestire una social a un costo cioè o ce ne rendiamo conto io all'epoca ero veramente una mosca bianca quando all'interno del mio partito perché mi ricordo voglio dire Matteo Renzi è stato quello che ha affossato appunto il finanziamento pubblico dei partiti ero una mosca bianca perché ero contraria e portavo l'esempio della Svizzera in cui neppure i deputati neppure gli onorevoli quindi coloro che sicuramente non possono cioè voglio dire io faccio un lavoro oltre mi devo mantenere insomma sicuramente non mi posso la politica anzi per me è un costo ulteriore e in Svizzera i deputati non percepiscono nessuno stipendio ma dal punto ma dal momento in cui sono eletti vengono assunti con vari consigli di amministrazione di case farmaceutiche delle banche delle assicurazioni eccetera logicamente è un modo di fare lobby in diretto ecco io penso che ecco dobbiamo cercare di non parlare troppo male in generale della politica perché allontaniamo quelli che vogliono impegnarsi in maniera spontanea sentiamo